Però, caro Ivano, tra il 73 e il 74 accade proprio una rivoluzione musicale nel vostro gruppo perché è davvero un momento che segnerà una svolta importante e decisiva perché tanti cantanti, tante star internazionali decidono di reinterpretare la canzone che poi è stato il vostro cavallo di battaglia, che riesce davvero a raggiungere in trasversale tutte le generazioni. La cantano da zero a cento anni tutti i ceti sociali, dai bambini alle persone più grandi, più adulte, amano questa canzone. Fu una grande fortuna aver scritto questa anima mia che ci rese veramente milionari, nel senso che... Beh, 50 milioni di copie, tra l'altro vendute, tante incisioni in tutte le lingue, avranno avuto anche il suo buon perché. Certo, ma non era in euro, e allora... Vabbè, scherzi a parte. No, è che fu talmente grande come è successo che molti presero a dire, molti cantanti, eh ma questa porta fortuna, ma perché non la cantiamo anche noi? Vuoi vedere che avremo... E hanno avuto tutti lo stesso nostro successo. Noi eravamo primi nella Iberè nel 73. Poi successe che hanno cominciato a chiamarci. La prima telefonata ci giunse dalla Francia. Una cantante la volle cantare in francese e nel 74 era prima in Francia. Lei. Una tra le più grandi cantanti europee dalla Francia, un grande applauso a Dalida. Poi venne nel 75. Nel 75 ci chiamarono dall'America. Un grande cantante ci chiese di cantarla in inglese. Nel 75, quinto negli Stati Uniti d'America, lui... E' lui, il grande The Voice, Mr. Frank Sinatra. Bravissimo. Poi venne... Seguì... Andiamo negli anni Ottanta. Negli anni Ottanta un grande gruppo ci onorò delle sue vocalità. I famosissimi Abba. L'inconfondibile voce di Frida. Anni Ottanta pure un grande gruppo interpretò Anima Mia. Ma qui era una cosa da discoteca. Perché erano già a fine anni Ottanta. Questo grande gruppo andò nelle primi posti di vendita in Sud America. Loro. Grandi, grandi. E poi nacque in Italia, in tutta Europa, in questo genere. I grandi Sante Smeralda. Andiamo negli anni Ottanta. Non voglio presentarvelo. Il nostro cugino di città. Lui. Avete capito perché 50 milioni di govi. Il grande amico Claudio, Claudio Baglioni. Poi non so, potrei continuare per esempio. Non so se vogliamo farlo sentire. Perché negli anni 2000, perché siamo negli anni 2000, un giovanissimo amato da milioni di ragazzine, incide in spagnolo. Lui è italiano. Incide in spagnolo. da primo in Francia. Grande applauso, facciamolo. Paolo Menecuzzi. Paolo Menecuzzi. Tu regresso. Va bene, dai, andiamo avanti. Carigno mio. Come lo deixassi. E mi spomoro. Se hai già dato il nostro piano. Eccolo qua. Grande, grande. Paolo, Claudio Baglioni. Tutti. Ci hanno onorato di questa loro partecipazione. Grazie.